Per me il cinema è emozione. Beh il cinema, erano stanzoni, piani di sigarette. A quel tempo c'era il cinema Italia. Io vedo il cinema come un mondo in cui tutto è possibile. Un modo di staccare da tutto e da tutti. Ho sempre vissuto la testa nella fantasia. Dolce non fare niente. Preferisco avere fortuna che talento, percepi l'essenza della vita. Diplomato col massimo dei voti al Conservatorio di Lucca. Sono maestro di fagotto e controfagotto. E ho visto il raggi B balenare nel buio davanti alle porte del cannaio. Assicurare ritorno organismo per analisi qualsiasi altra considerazione secondaria. Equipaggio sacrificabile. Grazie. 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 Grazie.